Allora, sono un terapista olistico, faccio diversi trattamenti per la cura della persona e aiuto per la persona, è la mia nuova missione di vita. Allora, il corso è un po' ripetere con il percorso che ho fatto con i tre giorni di luce e è stato arricchente, anche nonostante che conoscessi già la tecnica e tutto, però il gruppo ha portato tanta consapevolezza anche in me, tanta energia e tanta sicurezza e verità. È stato molto bene e lo consiglio tanto. Lo consiglio perché è un'evoluzione per la persona e conoscere se stessi e gioire della vita. E sì, ho lavorato su delle resistenze più che altro, dei blocchi, emozioni più che altro. Però ho lavorato anche sul piano fisico che l'ho scoperto oggi e direi che è ottimo, è velocissimo. È stata proprio una bella scoperta. Allora, Patrizia, un grande saluto, un arrivederci. e mi auguro in futuro di collaborare anche insieme a lei, proprio per portare a conoscenza sempre di più questa bellissima tecnica, una tecnica di luce, d'amore e di consapevolezza. Grazie, grazie Patrizia. Grazie. 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 Grazie.